Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Uccisa perché non voleva più essere controllata e messa alle corde. Uccisa perché a 56 anni preferiva la sua libertà a un rapporto soffocante con un 27enne. Uccisa perché non ha saputo piegarsi alle scenate di gelosia del suo ex fidanzato, lasciandolo ai suoi fantasmi di follia. Alessandra Matteuzzi non c'è più. Non è servito il divieto di avvicinamento per strapparla dalla mano omicida del senigallese Giovanni Padovani. L'uomo a novembre 2021 aveva condiviso sui social una campagna contro la violenza sulle donne della squadra di calcio in cui militava all'epoca. Il 25 novembre, giornata internazionale sul tema, aveva rilanciato su Instagram un messaggio del Troina Calcio dove appariva lui con la fascia da capitano davanti alla scritta stop alla violenza sulle donne. Il Troina Calcio dice no alla violenza di genere e in genere. Il PM Domenico Ambrosino ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per Giovanni Padovani, accusato di omicidio aggravato dallo stalking nei confronti dell'ex compagna. L'udienza è stata fissata davanti al GIP Andrea Salvatore Romito per venerdì mattina. L'indagato è difeso dall'avvocato Enrico Buono. In mattinata è stato conferito al medico legale Guido Pelletti l'incarico per l'autopsia, esame che comincerà probabilmente venerdì pomeriggio. La difesa ha nominato come consulente di parte Giuseppe Fortuni.